Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, assieme all'assessore alla cultura Alberto Parigi e alla professoressa Anna Romano, preside dell'Istituto Vendramini di Pordenone, ha ricevuto la dottoressa Elena del Pup, accompagnata da genitori e nonni. La giovane e promettente ricercatrice 24enne ha ricevuto una pergamena per festeggiare il suo ingresso alla Clinton Global Initiative University di New York, grazie al progetto The Good Scientist, su come connettere diverse discipline scientifiche con il terzo settore. Come amministrazione siamo sempre felici di dare un riconoscimento a chi si distingue nei vari campi dell'attività, che possa essere quella professionale, quella sportiva, quella artistica, in questo caso quella accademica degli studi. A 24 anni, avrà già tagliato traguardi così prestigiosi, significa poter poi guardare risultati ancora migliori. Soprattutto è la dimostrazione che fa più rumore a un albero che cade che a una foresta che cresce. Si parla troppo spesso dei ragazzi come elementi di disturbo, magari adediti al vandalismo o adediti a fare niente. In realtà in città, nel nostro territorio, ci sono centinaia e migliaia di ragazzi che fanno il loro dovere e si distinguono per la competenza, la preparazione e la bravura. Elena, cresciuta scolasticamente a Pordenone, dopo aver frequentato la scuola primaria alla Collodi e il liceo Vindramini, dove si è concretamente formata la sua passione per ecologia e ambiente, ha già collezionato premi e riconoscimenti di portata internazionale. È un onore essere premiata dalla mia città e dal sindaco Ciriani, dalla città in cui sono cresciuta, in cui ho fatto le scuole, quindi è bellissimo poter portare questi traguardi di nuovo a Pordenone. La speranza è anche quella di, coltivandosi nella ricerca e negli studi all'estero, di riuscire poi a portare i risultati, le soddisfazioni e anche ciò che si è imparato poi in Italia e anche a Pordenone. Ecco, questa è la speranza da parte mia e quindi è una bellissima giornata, è bello vedere che si possa davvero riportare l'eccellenza anche a Pordenone, che il merito venga premiato. Durante l'estate Elena terrà per 50 studentesse di alto merito, provenienti da famiglie con genitori non laureati, alcuni corsi di orientamento sulle discipline STEM, scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, presso la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna di Pisa.